bene amici eccoci con il nuovo aggiornamento cantinetta 2 star perché sono due telefoni che sono aggiornati a nougat uno in maniera ufficiale l'altro l'ho aggiornato io con il con il flash partiamo dal g5 che tra l'altro ho portato con me una giornata per verificare come come migliorato se è migliorato si vi dico che è migliorato se avete visto nel video della palestra attivo dove sono andato a fare un po di fitness avevo proprio lui e prima di tutto novità guardate se tiro giù la tendina delle notifiche vedete sono proprio in stile nougat e anche qua i toggle rapidi si sono leggermente modificati e aggiornati proprio nello stile della nuova versione del sistema operativo cancello tutto vi faccio vedere il solito tritico un telefono che devo dire la verità è rimasto molto molto veloce fluido e reattivo ma ha migliorato l'aspetto che più mi aveva deluso ovvero no non il design design purtroppo rimane quello ma la batteria si non è diventato il telefono che dura di più nella mia cantinetta ma devo dire che un 10 per cento di miglioramento l'ho notato con questa versione del software altra novità multitasking vengono introdotte la diciamo le multi finestre vedete di di android stock nougat con la possibilità sopra di mettere un'applicazione e sotto un'altra applicazione tra quelle disponibili ovviamente ho scelto l'unica che non è disponibile nel nel multi windows le riconosciamo con le disponibili perché hanno questo simbolino che sta proprio a simboleggiare il fatto di poter stare in due finestre per esempio youtube ci può stare e poi ci sono diciamo modifiche secondarie nelle nelle impostazioni vi faccio vedere un pochino come come gira mi sembra che sia qua nell'altro la possibilità di modificare le dimensioni delle icone nulla di che insomma una lg che non ha stravolto il menu rimane praticamente lo stesso anche il il funzionamento sempre molto veloce e attivo però appunto mi è piaciuto questo fatto di avere un'autonomia leggermente migliorata e adesso che si trova attorno ai 399 euro io un pensierino ce lo farei quando è riuscito non mi ha convinto un voto un po basso adesso invece ci sta più dentro anche se è una brutta cosa da dire ma andiamo a vedere invece ls7 anche lui si è aggiornato ma questo non in versione ufficiale ma ufficiosa si trova il firmware nei meandri dell'internet l'ho flashato l'ho scaricato qua le modifiche sono più consistenti mi piace tantissimo la pulizia della nuova touch anche qua vedete le notifiche sono in stile nougat nessun produttore per ora le ha diciamo modificate proprio perché sono molto funzionali i toggle però sono completamente diversi e la cosa l'altra cosa che cambia tanto è l'interfaccia delle impostazioni guardate completamente diversa purtroppo si va a perdere qualcosa tipo la possibilità di avere tutte le applicazioni nelle varie schermate perché torna prepotentemente il drawer magari la versione definitiva invece rimetteranno la possibilità di di non averlo l'altra cosa che mi piace che rispetto a g5 che non ha questa possibilità qua samsung lascia la possibilità della pressione prolungata per avere più opzioni scusate la tosse non ci sono ancora le opzioni totali come su pixel ma questa preview ci fa vedere che comunque diciamo la direzione di samsung sarà quella la velocità è molto buona vi faccio vedere le solite applicazioni ovviamente per flasher la rom l'ho dovuto formattare e risettare quindi gira gira bene come tra virgolette un telefono fresco ma non preoccupatevi perché per la prova di diciamo di lungo termine o comunque qua il s7 edge e così possiamo fare un confronto diverso diretto scusate sulla vecchia touchwitz e sulla nuova touchwitz allora qua io ho tolto sull'edge tutte le impostazioni tutte scusate il drawer cerco di fare un pochino il giocogliere guardate solo da questa schermata come è cambiata la touchwitz molto meno giocattolosa molto meno come si può dire fumettosa insomma a me piace decisamente di più altra cosa la possibilità di cambiare la risoluzione dello schermo scusate da hd fino al qhd wide questo cosa cosa comporta il fatto che in hd probabilmente il processore grafico deve lavorare meno quindi un telefono forse più veloce e anche con una batteria che potrebbe durare un po di più si perde il multitasking multi windows di samsung per invece approdare approda il multi windows stock di android nougat vedete a me non dispiace questa scelta almeno c'è la possibilità di più compatibilità con le varie applicazioni il multi windows di direttamente di samsung era un po meno compatibile è cambiata anche l'interfaccia della fotocamera anche qua molto più pulita guardate che bello questo pulsante tondo per scattare anche per la registrazione swipe a destra per gli effetti swipe a sinistra per le impostazioni lo proverò a lungo in un viaggio che farò prossimamente perché voglio vedere come girano questi s7 dopo circa otto mesi dal lancio mi pare purtroppo abbiamo perso il note 7 ma non è detto l'ultima parola stay tuned allora queste le grosse novità su questi telefoni che sono aggiornati a nougat ma andiamo a vedere le altre i primi tre non è cambiato niente quindi honor 8 non ha avuto nessun tipo di aggiornamento vi faccio velocemente vedere come va vi ricordo che i telefoni rimangono sempre accesi sempre attivi in background continuano ad aggiornare tutte le varie mail applicazioni eccetera 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 un telefono che mi sembra sia rimasto bello reattivo e veloce il qua il oneplus non vi dico niente di oneplus perché dovrebbe essere presentato successore tra pochissimo e quindi ma vabbè comunque non si è aggiornato non si è aggiornato neanche il meizu m3 o meglio ci sono dei link ad aggiornamenti firmware cinesi strani eccetera eccetera io aspetto l'ota e vedete quante notifiche in cinese mi stanno arrivando ma comunque questo m3 è un telefono che no attenzione c'è un aggiornamento pronto pronto per installarlo eccolo qua ma no poi la mi dice che la mia versione è la più recente boh strano questo vediamo un po niente vabbè diciamo aggiorna ora da qua no forse si sta aggiornando bene aggiornamento live del meizu m3 dalla cantinetta l'iphone si è aggiornato la 10.1.1 che non porta grandi modifiche sul diciamo sul 7 le apporta sul 7 plus perché aggiunge la scusate modalità bokeh alla diciamo alla alla fotocamera cosa che il 7 normale non ha perché non ha la doppia fotocamera proverbiale la fluidità del di iphone è scritta la sessione ma chi se ne frega abbiamo già visto come gira rimangono i micro lag quando si esce dall'applicazione per tornare indietro e vabbè quelli scompariranno forse speriamo con le prossime release software il mi 5 si è aggiornato ma è ovvio ho su installata la rom quella di xiaomi.eu con gli aggiornamenti settimanali e rimane rimane un telefono molto veloce molto piacere tenere in mano secondo me miglior rispetto al mi 5 s che ho provato qualche giorno fa perché ha il pulsante fisico mi piace di più rispetto a come implementato nel mi 5 s perché è più comodo tenere in mano e anche secondo me decisamente più bello magari in versione extra quello con la back cover in ceramica è veramente fantastico comunque rimane sempre una scheggia molto molto veloce mi ui e xiaomi che veramente sono quasi una certezza il p9 e il p9 plus non si sono aggiornati anche qua andiamo a cancellare tutte le applicazioni telefoni che sono rimasti reattivi veloci li ho tirati fuori dalla cantinetta pochi giorni fa per fare il confronto anzi ieri mi pare proprio tra i vari dual al camera vi faccio il solito trittico e pur non essendosi aggiornati sono delle schegge sempre sempre molto veloci prendiamo il p9 light tra l'altro su p9 plus e mi pare anche su honor sono usciti non in italia e in beta gli aggiornamenti sull'emotion ui 5 ma vediamo se la installerò oppure si aspetterò l'ota per vedere quando huawei la implementerà e la diciamo rilascerà p9 light il mio best buy preferito per il 2016 si molti mi scrivono andrea l'ho comprato e la memoria di solito 16 gigabyte è un po poca e beh ragazzi è da qualche parte la coperta un po si scopre è un po corta sì però è vero perché su questo p9 light non c'è la possibilità di spostare tutte le applicazioni sulla memoria micro sd e quindi qualcuno che mette tanti giochi o tante applicazioni potrebbe avere problemi da quel punto di vista avete visto come girano ci sono gli aggiornamenti comunque veloce non così veloce però come il p9 plus e qua forse con l'andare del tempo iniziamo a capire a cosa servono i top di gamma e la differenza tra un top di gamma e un telefono non top di gamma sul pixel è arrivato un piccolo aggiornamento le patch di sicurezza fondamentalmente 60 megabyte nulla di che pixel che gira veramente sempre molto molto bene molto 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 fluido ragazzi a me questo pixel piace pur costando troppo e pur non piacendomi dietro il redmi 3 basta eliminato eliminato perché perché sta per arrivare redmi 4 quindi lui lo vendo e redmi 4 lo metto in cantina andiamo a vedere umi allora umi super lui zitto zitto 4 4 si aggiorna praticamente sempre anche qua giorno arrivato un aggiornamento software è vero non cambia la versione android che rimane la 6.0 però devo dire questo umi mi sta non dico stupendo però a lungo nel lungo termine non è un telefono che si sta rallentando è ovvio rimangono un pochino le criticità sul display sulle cose che ha visto durante la recensione ma è un telefono che rispetto ad altri cinesoni tra virgolette low cost che ho provato non sta dando brutti risultati guardate sì ok non è fluidissimo non è velocissimo qualche la che ce l'ha però voglio dire ragazzi si aggiorna lo continuano a seguire alla fine il suo sporco lavoro lo fa è ovvio che adesso qua messo di fianco ad altri telefoni mi accorgo la prima cosa che mi viene all'occhio è che il display non è all'altezza degli altri vabbè wiko fever eccolo qua uno dei miei best buy di di quest'anno mi pare ora della fine dell'anno scorso no mi pare di quest'anno cancelliamo tutte le notifiche vi ho detto l'altra volta che è un telefono che con l'aggiornamento alla 6 è un po secondo me peggiorato non sono arrivati altri aggiornamenti perché la batteria dura un filo meno si è un po rallentato era una super scheggia quando lo provai appena uscito adesso vedete inizia a mostrare un pochino la corda non che sia un telefono inusabile assolutamente tutt'altro probabilmente rimane un buon telefono ma diciamo che a 199 euro probabilmente a oggi sì ok il prezzo è sceso un pochino ma ci potrebbe essere di meglio anche se continua a andare e continuiamo noi a tenerlo in cantinetta purtroppo motorola da quando è andata anzi moto purtroppo motorola non c'è più ormai è diventato moto su questo x force da quando è andata in mano lenovo zero aggiornamenti non pervenuti morto boh presto anche lui abbandonare la cantinetta perché probabilmente arriverà il x play e andiamo a vedere invece htc allora htc 10 sarà molto veloce come veloce lui perché ho fatto una ri recensione una riprova pochi giorni fa e quindi ho poco da provare l'ho provato andate a vederla le mie considerazioni sono sono tutte la rimane comunque veramente fluido e veloce guardate scheggia a fare praticamente tutto torniamo indietro lumia per la gioia dei miei haters l'ho formattato ebbene sì l'ho formattato ma non l'ho configurato non l'ho riconfigurato lo farò in questi giorni però già durante il diciamo la fase di formattazione e di installazione delle applicazioni tutte le criticità che avevo trovato con la vecchia release del software no non con la vecchia perché non si è aggiornato ho tolto anche le insider preview l'ho formattato proprio seguendo i vostri consigli o ragazzi continua andare come andava quindi un po di blocchi un po di rallentamenti insomma ancora non ci siamo tant'è che la stessa microsoft pare aver abbandonato questo in operativo quadri mercato sempre basse mi spiace perché poteva essere un terzo competitor invece diciamo il duopolio rimane tra ios e android il il sony vediamo come va questo x performance devo dire mi sembra anche lui rimasto molto molto fluido e reattivo qui non sono arrivati aggiornamenti trittico instagram torniamo indietro andiamo con twitter e torniamo indietro andiamo con il gestore delle pagine dovrebbe arrivare nougat anche per lui non si sa ancora quando questo aggiornamento della cantinetta di metà novembre il prossimo appuntamento quando un altro dei telefoni importanti riceverà nougat ciao ragazzi